allora buonasera a tutti di expedition in ponza island isola di ponza lazio martirreno questa è la mia stazione portatile diciamo in trasferimento 8 e 17 via esu mfj accordatore adesso vi faccio vedere l'impianto d'antenna questo per le v e le u hf allora vediamo un pochettino l'impianto d'antenna mfj con dietro il cavo dell'antenna che entra nella dentro il supporto antenna qui con una banana e poi c'è il cavetto che porta alla radio adesso vi faccio vedere l'impianto d'antenna qua ho fatto con del cavo semplice cavo cavo elettrico che va fuori alla finestra eccolo qui adesso vi faccio vedere sopra come allora il cavo esce da questa finestra eccolo qui va sopra lì al tetto adesso vi faccio vedere saliamo sopra il tetto un attimino vediamo qui ecco qua questo qui è il cavo eccolo qui collegato qui e va fin sopra tutto cavo antena eccolo lì 30 metri di cavo 30 metri più o meno che qui all'isola fanno tanto e poi questa qui attaccata a più o meno qui alla bene e meglio all'antenna direttiva vhf col suo cavo fino a giù questa è l'isola di ponza il mio luogo nativo dove vengo spesso questa qui però lì a palmarola l'isola di palmarola questa di spedizioni l'ascolto e di qualche collegamento vediamo un pochettino in bassa potenza qrp un saluto a tutti allora ci sentiamo via youtube ciao